Lo hanno chiamato a risolvere un crimine spaventoso. Detective Dormor, che onore conoscerla. Sono il detective Ellie Burr. Benvenuto a Nightmute. Non posso credere che lavorerò con lei. In Accademia ho studiato il caso degli omicidi di Leyland Street. Aveva 17 anni. L'ha picchiata fino a farla morire. Scopra chi è stato. Nel rapporto non c'era scritto che le ha tagliato le unghie. Lavato i capelli. Niente mutilazioni? Stavolta no. Le tortura, le obbliga a pratiche oscene, le tiene lì per tre giorni. Quest'uomo è andato oltre ogni limite senza battere ciglio. Polizia! Quello che il detective Dormor non sa è che uccidere è solo una parte del piano. Dormor. Uccidere ti trasforma, ti dà consapevolezza. Con chi parlo? Non puoi dormire, Will? Si prenderà gioco di te. Io e te dividiamo un segreto. Sappiamo tutti e due quanto sia facile uccidere. Ti dormenterà. È dura quando non si dorme per tre giorni. Comincia a vedere strane cose. Dei flash di luce. Entrerà nella tua testa. I traghetti partono cinque miglia a nord di Nightmute. Io sarò su quello delle undici. Ho molto rispetto per la tua professione, ma questa volta non hai il controllo, Will. Se cerchi di fare colpo, Finch, hai sbagliato persona. Ti ho detto che hai solo dieci minuti per picchiarmi a morte. Non hai prove che io abbia ucciso Kay. Lo sai solo perché te l'ho detto. Si sente bene, detective? Ultimamente non ha dormito molto. Un'altra notte così e diventerai pazzo. Ora il gioco è diventato mortale più di quanto avessi immaginato. Tutta questa messa in scena con me non funziona. Fermo! Dimmi dov'è lei, Finch! Non preoccuparti, Will. Quando sarai morto dormirai. Non preoccuparti, Will. Quando sei ancora la prima Sit solarzeit di soltano. Il gioco è fei che sono in scena.